Il piacere di leggere in movimento. Torna il tram dei libri, l'iniziativa che la Biblioteca della Regione Piemonte organizza nell'ambito della manifestazione Il Maggio dei Libri. La presentazione di alcuni libri di editori piemontesi avviene su un tram storico che percorre il centro di Torino con partenza e arrivo in Piazza Carlina. Sono previste due corse alle 15 e alle 16 nei giorni 23, 24, 26 aprile, 3, 7, 8, 9 e 10 maggio con partecipazione gratuita fino a esaurimento dei posti.